amiche e amici io sono sciopà non so voi ma io lo sono già però tengo duro eh ho ancora un'altra bella mezza giornata carica 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 di tante bellissime presenze sentite un silenzio per casa ho obbligato al silenzio ma devo andare a fare 18 caffè 18 caffè eh sì allora sapete che ho compiuto 60 anni ah ecco e che ho detto che festeggerò sino almeno al 17 di giugno dal 17 maggio al 17 giugno in verità abbiamo festeggiato abbiamo cominciato a festeggiare molto prima con le amiche spezzine con le mie coscritte con due mie carissime amiche con mia cugina con un po' di persone a spezia abbiamo fatto cene pranzi tra l'allero un po' qui in polimpola sono stati tre giorni che mi hanno frullà poi cos'è arrivato poi abbiamo festeggiato qua a casa poi abbiamo festeggiato a procida ma io sto continuando a festeggiare cari cari carissimi amica me fermo e allora ho un po' di ospiti c'è un po' di diciamo campeggio in casa ma anche un po' in giro qua nei dintorni mi sono venuti a trovare un po' di amici che erano pronti a fare i pazzi no ma pazzi no sono tutte persone adulte ho 60 anni io ma ci sono anche delle persone molto più giovani tra le amicizie che mi sono venute a trovare un po' dalla molto dalla liguria un po' di qua e un po' di là non posso dire non posso fotografare non posso rendere noto no perché sapete che a noi ci piace un po' così no un po' un po' dico e un po' tengo ma poi come facciamo tutti o dovremmo fare un po' tutti vi racconto poi mi piace raccontare sapete che io non ho neanche la caffettiera cialdea oh non ce l'ho la caffettiera cialdea devo fare le facciagge ce l'ho solo le moca ce ne ho tre vado a fare tazzine non me ne mancano mi fa schifo dare il caffè nel bicchierino di plastica e poi si laveranno delle tazzine metto anche i piattini sono rigorosa sono rigorosa è una cosa bella allora erano venuti per anche così sostenermi in questo vento che è la giornata mondiale di lavoro a maglia in pubblico però poi ho detto ma vabbè dai su forza è vero sono tutti i divoratori di libri di ogni genere ci sono allora vediamo le categorie aiutatemi perché io non me la ricordo allora abbiamo skipper skipper che vengono anche dalla lombardia la lombardia non è bagnata da mare ma noi laghi e abbiamo gli skipper skipper che vengono da genova abbiamo due abbiamo pittori scultori scrittori scrittrici musicisti in genere maschi e fin ballerino di poi era bellissimo e non in casa non è spa possibile perché con pantaloni con non è la con nona si va a impigliare da tutte le parti allora poi aspettate che che ho lasciato fuori non mi ricordo più abbiamo un gallerista d'arte vabbè vabbè adesso però è divertente erano già pronti organizzati con seggioline da pittori seggioline tipo la mia spiaggine perché sarebbe venuta una cosa sì carina però ho detto ragazzi il tempo è matto ci sono tanti posti belli che dovete andare che potete andare a vedere noi ci si ritrova allora ho la casa invasa da fugassa farinata da riscaldare un sacco di fave ad essere a manca che mi sono arrivata anche dal vicinato formaggio beh aspetta di che cos'è che c'è già mi è arrivato il pesto però non è tanto mannaggia eh lo so sono mandato della stronza eh vabbè ma poi vi racconterò insomma e quindi niente gli spedisco dove lo mandate alla foresta vetusta mi hanno detto di tutti i colori che faceva freddo ma è bellissima le ho spediti eh le ho spediti a Tuscania le ho spediti alla Bolsena adesso ho fatto tutto un progetto anche perché poi rimarranno nei dintorni rimarranno nel Lazio non saranno sempre qua nei pressi di casa mia ci rivedremo la prossima settimana tutti insieme sabato a Roma quindi a Roma vabbè è una roba carina mi piace tanto sono contenta 60 anni ci sono arrivata non lo so se ne arriverò a 61 però qui 60 io li volevo festeggiare lì mica ho finito eh c'è ancora un sacco di persone dei castelli romani da vedere eeeh se me li porta avanti oh mi sono arrivati i budini di riso mi sono arrivati davvero buoni e non ne lascio neanche una mia figlia mi dispiace per lei niente magno tutto io e va bene insomma e verranno oggi in gelateria non credo perché perché dov'è che li ho spediti allora nel pomeriggio dovranno un po' seguitato ci abbiamo gli skipper che di tempo di previsione del tempo se ne dovrebbero interessare quindi io ho consigliato Todi ho consigliato Orvieto o Amelia che non ci sono ancora andata forse ci andiamo insieme in serata non lo so ehm cosa che gli ho detto ho detto di andare alle terme si sono stressati ma non so manco se sono aperte eh aspettate vabbè ma gli ho detto di farsi tutti i paesetti dei cimi tutto tutto quello che sta nel presso del lago di Vico se ne andranno a Calcata ma manco a dirlo che non vanno vabbè sono più persone più mezzi di trasporto ci sono le moto ci sono le auto eh c'è un camper eh c'è chi si è portato letto e chi sa capello qui si adattano perché ho un bagno solo e uno scaldabagno elettrico figuratevi c'è un gran casino già c'era già ce n'è di più eh abbiamo un po' di posti letto a casa eh ne abbiamo sei più degli spazi tra un cane e un gatto ma no non ve lo posso dire il bordel che c'è a casa vedete qua ecco oscuro un po' il dietro con i libri quindi giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico dovevamo essere già 19 da casa va bene chi c'è c'è oggi no non li vincono poverati sarebbero venuti sono organizzati a forza magari fanno una comparsa chissà non lo so ma no no che andassero che poi noi ce ne facciamo altre ne combiniamo altre poi vi racconto nel pomeriggio è arrivata una ragazza indirizzata io lo so che la campagna ce l'ha nel cuore indirizzata dalla zia napoletana che ha consultato il sito ufficiale e quindi ha visto che in europa che in italia che nel lazio e che a viterbo c'era l'evento così come l'avevo pensato e quindi lei è stata indirizzata dalla zia questa ragazza che studia scenografia che che è appassionata di trucco scenografico che è una ragazza d'oro mamma mia sono contenta guardate sono proprio contenta matilde matilde è stata io spero si sia sentita a suo agio che sia stata bene credo di sì abbiamo affrontato tanti argomenti con matilde abbiamo parlato di pesto di pesto ma anche con le altre con ariandra con grazia grazia ha vinto la shopper del mattino cosa c'è dentro poi lo dirà lei va bene mi faccio fare una foto ha detto ma tutta questa roba è sì e nel pomeriggio altra shopper è da sorteggiare il sorteggio che l'ha fatta abbiamo chiamato le bambine erano timide poi le bambine ho regalato dei gomitolini e poi si sono sedute sul divano venivano sempre più vicino fu non è bello quando i bambini si conquista la fiducia dei bambini insomma avevamo chiesto così adesso andiamo a cercare libreria se c'è qualche bambina che ci fa questo sorteggio i nomi i bigliettini in un sacchettino di seta l'ha fatto la mamma delle bimbe è stata carina è stato divertente è stato bello e i filati sono cultura le attività manuali cultura volete promuovere la pace insegnate a realizzare a costruire con le proprie mani chi costruisce difficilmente si si dannerà per distruggere è l'unico modo uno dei modi più efficaci no lo dicono i miei bambini è cresciuti i miei primi allievi vent'anni di più ci hanno qualcuno anche di più sono grandi sono tutti grandi i miei allievi grazie a tutti